E' tutto pronto, comincia il secondo tempo. Occhio all'avanzata. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Verre, c'è campo per la ripartenza. Vediamo cosa inventa ora. La traiettoria verso il centro. No, pallone sul palo. Interviene e sventa il pericolo. Possono prendersela solo con la cattiva sorte che ha impedito di raggiungere il pareggio. La palla si è stampata contro i legni, a portiere battuto. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Replay che conferma beneficio dei più distratti. Come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. A volte l'occhio umano può fare brutti scherzi, soprattutto nella concitazione del match. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta, come sempre, su EA Sports. Buona lettura del difensore su un brutto passaggio. Grande operazione di mercato, conclude dal Barcellona, come confermato direttamente dalla società Blaugrana, sul proprio sito. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Verre, si aprono spazi invitanti, possesso ancora manovrato, senza però più la possibilità del contropiede. Bravo qui a smarcarsi, tradizione al centro, sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Il potere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Rodin, buone qualità di palleggio quest'oggi. Può colpire da lì, lo vede, posizione ideale. Niente da fare, situazione abbastanza evidente di offside. Buona l'inquizione qui. Pallone invitante. Cross sul secondo palo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Opportunità dalla bandierina per trovarsi in vantaggio. Occhio al tocco in mezzo. Sicuro, in presa, il portiere. Verre. Para senza nessun problema qui il portiere. Va con il possesso palla. Puntuale qui il difensore nel recupero. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Borini. Vediamo cosa fa ora. C'è il recupero del pallone. Palla che spiove. Grande recupero in area. C'è spazio per la ripartenza. Si riversano in avanti, trascinati dai propri tifosi, a caccia del gol partita. Ciano. Può ricevere una posizione interessante. Verre. A spazio. Occasione. Terre e il portiere gli rega il gol. Bravissimo. Mezzo miracolo. Occhio al corner. Spazio per il cross. Buon intervento difensivo. Vitale. Cerca la sovrapposizione. Vediamo cosa inventa ora. Se lo beve, spazio per il traversone. Attenzione perché è pericoloso. Sano. E c'è la presa sicura del portiere. Vitale. Rodien. Bravo qui a smarcarsi. Avanza verso la porta. Grande parata. Super portiere. Anderatore vuole cambiare qualcosa. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Sfruttato male questo corner. Bravo il difensore. Può colpire da lì. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Borini. Stepinski. Ottimo il tackle. Andiamo a portocampo alla Matteo Barzaghi. Fra quanto finisce questo match, Matteo? Siamo a rush finale. Mancano solo 5 minuti al novantesimo. Bene, Matteo. Per ora può bastare. Grazie, ovviamente. Richiamaci se ci saranno novità. Mancano pochi minuti. Tutto può cambiare. È un finale intensissimo. Occhio al traversone. La giacca corta sul primo palo. Poteva fare certamente meglio qui. Era una chance importante da non lasciarsi sfuggire. Peccato. Mastica amaro qui il tecnico per l'occasione di poco fa. Poteva essere il gol del vantaggio. Ossesso palla per gli avversari. Vado a bordo campo. Allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca la fine. Ultimo giro di orologio. 60 secondi allo scoccare del novantesimo. Grazie. Ovviamente se potessero esserci novità. Richiamaci pure la linea. Paganini. Siminski. Palla consegnata agli avversari. E' una questione adesso di energie, di voglia, di grinta, di cuore nei tempi supplementari. Si parte con il primo tempo supplementare ovviamente con lo spettro dei rigori. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Badu. Verre. Borini. Tocco verticale interessante. Lo vede. Occasione. Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Decisivo qui. Allontano la minaccia. Borini. Badu. Manovra interrotta dagli avversari. Pallone che finisce in fallo laterale. Badu. Sarraoni. Attenzione, la palla è lì. Non si stanno certo risparmiando, no. Costruiscono azioni su azioni ma finora è mancata la necessaria lucidità in fase conclusiva per trovare il gol. Serve un po' più di cattiveria per formare il portiere e spezzare l'equilibrio. Badu. Stepinski. Attenzione a Veloso. Pallone invitante. Potrebbe grossare. Intervento nel difensore che spazza. Portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava tentativo di alleggerimento. Cosa vuoi che ti dica? Rodin. Buona lettura dell'azione. Ha intercettato bene il passaggio. Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Buona qui la lettura del difensore. Termina qui il primo tempo supplementare. Attenzione perché... Siamo arrivati al momento, al calcio d'inizio di questo secondo tempo supplementare. Prova a sfruttare le corsie. Posizione favorevole. Pericolo scampato. Decisivo il difensore. Verre. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Trova la botta. Ha sfiorato la traversa qui. Punizione battuta davvero bene, direi. È mancata solo un po' di precisione per far scendere la palla. Stepinski. Borini. Avanza, non riescono a fermarlo. Attenzione. Borini. Intervento facile per il portiere. Borini. Verre. Vitale. Dionisi. Può avvicinarsi alla porta. La mette in mezzo. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Palla persa. Buon pallone filtrante. Buona l'intuizione. Badu. Che gol. Splendida rete. E la mette. Palla in buca d'angolo. Portiere che non ci arriva. Grande fiuto del gol. L'hai riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. E adesso sono in controllo. Tutto sembrava pronto per i rigori. È vero. Sembravamo destinati a questa conclusione. Ecco il gol. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Si riparte dunque con l'Ella Samanti nel punteggio. Andiamo a portocappo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare ancora Matteo? Ne mancano due di minuti da giocare in questo secondo tempo supplementare. Grazie per l'aggiornamento Matteo ovviamente richiamaci se ci saranno novità. È in buona posizione. L'arbitro concede due minuti di recupero. Attenzione perché è pericoloso. Gran palla in mezzo. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Risultato che sorride loro. È una vittoria cercata, voluta, direi meritata. È stato premiato il loro atteggiamento. Attenzione perché è pericoloso.